La storia era eravamo quattro amici al bar, l'altro dove? E' al bar, dove sto? Guarda, fa mannescere perché la radio è qua Cari amici di Video Mediterraneo, siamo di nuovo qua Siamo in giro per cercare il catalese doc E' il coprifuoco, tornate a casa? Le donne non mi resistono e infatti se ne scappano proprio Come si chiama signorina? Laura Solitamente Laura non c'è, stasera c'è Ciao, si sente un po' positivo Beh, sì, sono nato positivo Ci sono due positivi, scappiamo! E poi alla fine, dopo che magari te la porti a cena Le spendi tutto lo stipendio Io ti voglio bene come un fratello Perché? Cioè, da dove viene questa cosa? Perché non è scattato, non so, non è scattata la scintilla Meglio solo che a mano con bagnale Hai mangiato la parmigiana, esci dall'acqua Hai appena mangiato, domani tu la puoi fare il bagno ormai Qual è la bevanda tipica che il catanese doc utilizza quando ha molta sede? Il sels, limone e sale Brava! Ma come sei brava! Anche se a me non piace, però col sale Questa non vuole parlare, non farebbe piano Intanto è sempre camisa in prima fila Salve, un sesso al limone, per favore Un sesso vuoi con sale o senza sale? Col sale Se sale, perché scende? No, scende e vuoi far salire Signori, a voi gusto Sapresti dirci come si fa la parmigiana? Friggere la parmigiana Parallelamente preparare la passata di pomodoro E poi... Perché diciamo che è una salsa che passa, è passata Cosa ne pensa Topil, Upil? Penso che ci sono qua, quasi un buffone Benissimo, bravo, bravo Dai quattro buffoni chiudiamo E salutiamo tutti gli amici catanesi doc di San Giovanni Le Cude Ciao, un bar